Musica Si chiude con la musica di Giovanni Allevi, l'estate in musica al Valdichiana Outlet Village. Stasera qui il pubblico delle grandi occasioni per una serata di settembre davvero magica. Artista eclettico ed inusuale, compositore, direttore d'orchestra e pianista di fama mondiale, Allevi incanta il pubblico accompagnato dai 12 musicisti dell'Orchestra Sinfonica Italiana. Nella serata i brani che lo hanno reso famoso come Flowers, ma anche quelli del nuovo disco Equilibrium. C'è un potere invisibile che ci blocca, ci congela tutti, ci costringe tutti ad essere omologati a degli stereotipi piatti e banali. Quindi chi è che riesce finalmente a trovare se stesso? Colui che è squilibrato, colui che grazie allo squilibrio riesce a rompere le maglie di questo potere invisibile. Intorno negozi aperti fino alle 23 ed isoli di degustazione enogastronomica, per dire arrivederci ad un'estate che ha portato a Foiano della Chiana tanti artisti come Arisa, Le Vibrazioni, tutti eventi ad ingresso gratuito così come il concerto di Giovanni Allevi che riesce, come pochi sanno fare, ad avvicinare il grande pubblico alla musica. Abbiamo un artista molto rilevante, famoso in tutto il mondo, un genere e uno stile musicale che un po' differisce rispetto a quello che solitamente organizziamo in outlet e quindi è una serata sicuramente particolare. Tra l'altro è la quarta edizione della Village Night che è una serata che unisce la buona musica alle eccellenze del territorio, eccellenze soprattutto enogastronomiche, quindi vini e birri artigianali del nostro territorio ma anche di altre regioni molto importanti dell'Italia e quindi è veramente un bel evento.